un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi qui per raccontarvi un'ulteriore storia un'altra storia vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove spesso vi chiediamo di interagire con noi e di raccontare la vostra testimonianza come è entrato padre pio nella vostra vita e quali sono i racconti che volete condividere con tutti con tutti noi ad esempio come ha fatto la signora maria assunta aprile le scrive desidero fare questa testimonianza perché è una promessa è una promessa che ho fatto a padre pio è una promessa che ho fatto anche al signore lei racconta che è stata operata il 5 agosto del 2021 e aveva un tumore al seno che gli era stato riscontrato nel maggio del 2021 il 4 agosto scrive le arriva sul telefonino una notifica del programma un minuto con padre pio sicuramente parla delle notifiche che arrivano sul nostro canale youtube di un minuto con padre pio perché in tanti rivedete queste queste puntate proprio sul canale youtube alle 8 in punto la mattina vi accompagna sulla pagina di padre pio tv era un momento particolare scrive maria assunta guardavo la televisione e ascoltava il recitava anche il santo rosario quando arriva proprio questa notifica leggo bene e diceva vivi tranquilla e non temere la divina operazione ecco lei subito iniziata a piangere sapeva che gesù stava dicendo qualcosa di significativo ed importante tramite padre pio quindi doveva stare tranquilla non doveva temere così lei comincia a pregare ha pregato tanto ha dato piena fiducia a dio che tutto sarebbe andato meglio maria assunta scrive che ha affidato tutta la sua sofferenza alla madonna scrive ancora ho fatto la promessa che sarei andata a ringraziare padre pio perché in fede sapevo che avrebbe ascoltato le mie preghiere e così è stato il tumore è stato tolto con l'asportazione della mammella ma scrive non ho fatto nessuna terapia poi è venuta qui a san giovanni rotondo per ringraziare scrive lei personalmente padre pio per la sua grande intercessione e racconta quella bellissima immagine che c'è all'uscita del santuario possiamo immaginare possiamo forse di immagine la statua la statua che c'è proprio all'ingresso del santuario di santa maria delle grazie quando si entra sulla destra scrive è come se padre pio mi ha guardata e mi dicesse ciao figlia mia grazie per essermi venuta a trovare questa è la storia di maria assunta che ha voluto condividere con tutti noi e soprattutto lei scrive e ancora non abbandoniamo la speranza